Musica L'impatto è devastante in un'impresa come la nostra che usiamo prettamente il gas, metano stiamo parlando di bollette da 300 mila euro contro i 30 mila euro che pagavamo l'anno scorso stiamo parlando di un mese per cui la situazione specialmente di liquidità è compromessa I prezzi di luce e gas volano alle stelle, la situazione per le aziende è insostenibile a raccontarci l'importo dell'ultima bolletta ricevuta è Enrico Pozzobon, titolare della lavanderia industriale Eureka di Castelfranco Veneto che lavora per la sanità, un servizio fondamentale per 400 strutture tra case di riposo e ospedali che non può subire interruzioni sarebbe devastante, la priorità è restare vivi, la richiesta alle autorità e al governo è chiara Chiediamo il congelamento delle fatture delle energie, gas e energia elettrica, chiediamo il congelamento delle fatture, cioè che le imprese energivore che ci hanno fatturato finora e hanno fatto liquidità, ci diano una mano per questi 4 mesi in modo tale che noi impolpiamo un po' la liquidità per poi insomma in qualche modo a gennaio vedere come fare per capire poi se arrivano aiuti Anche le stesse strutture per anziani chiedono che si intervenga subito, i costi di energia e forniture varie rischiano di mandare in tilt i conti delle RSA che potrebbero essere costrette ad alzare le rette anche di 400 euro al mese Ad oggi i dati ci dicono che l'incidenza degli aumenti diretti, ovvero l'aumento costo di energia e gas, aggiunti a quelli indiretti che sono i nostri fornitori di altre materie prime, ci portano oggi a stimare che siamo già intorno al 10-12 euro al giorno di aumento retta che è un aumento insostenibile per le famiglie Noi spendiamo ogni anno 1.200.000 euro per l'energia tra l'elettricità e il gas e quindi se raddoppierà o triplicherà, qui non si sa più che fine facciamo, sarà un disastro ma è un disastro che peggiorerà ulteriormente perché anche le forniture di servizi Faccio l'esempio più classico di un'azienda che per forza è energivora come la lavanderia Noi spendiamo anche nella lavanderia 1.200.000 euro l'anno tra la biancheria piana e la biancheria degli ospiti Un grido d'allarme che non può rimanere inascoltato I casi di riposo in realtà sono dei musei di storia contemporanea perché questi anziani che abbiamo noi sono quelli che hanno fatto il benessere in questo paese dagli anni 60 in poi con il loro lavoro Ecco non è ammissibile che questi anziani vivano con l'ansia di non riuscire a pagare le rette visti i rincari che sono in vista Lo riteniamo inaccettabile e riteniamo il dovere morale che il governo si prende un impegno per aiutare gli anziani nei casi di riposo Grazie a tutti